Sindaco, questa sera Umberto Carriera ha deciso di sfidare il governo, di andare un po' contro la legge, di aprire il suo locale di Monbaroccio. Lei per questo lo aveva anche diffidato? Sì, l'avevo proprio diffidato, anche perché lui mi conosce, conosce la mia storia, cosa faccio per mangiare, perché il mio lavoro è uguale al suo, perché noi per portare il pane a casa facciamo attività di ristorazione, ma lo facciamo rispettando le normative. E quindi il suo senso di sfida secondo me questa sera vale doppio, perché non ha sfidato solo il DPCM, non ha sfidato solo la diffida che gli ho fatto, ma ho voluto sfidare anche un ristoratore, o meglio una famiglia di ristoratori che viene dal passato. E quindi questo non lo trovo un atteggiamento corretto, non solo nei confronti legislativi, ma anche nei confronti di un territorio che l'ha colto, che l'ha fatto e gli ha dato un lavoro e che lui purtroppo, al cui lavoro lui non risponde. E se queste fossero le sue risposte, io non mi fermo, una diffida del genere avrà delle conseguenze e noi vedremo di farle fino in fondo. Quale sarà quindi il prossimo passo? Il prossimo passo sarà quello di confrontarsi con la prefettura, con la questura e concertare con loro quelli che saranno i percorsi da attuarsi in questo momento. Sicuramente sarà anche quello di individuare un legale per prendere quelle che sono le difese del mio comune.